Sto facendo una ganascia alla nocciola, perché so che la nocciola è il gusto preferito di Jacques. Credo che Candice abbia appena messo della ganascia alla Nutella nella torta. Sarà buonissima. Devo dire che era una bella risata malvagia. È vero! Grande! Ce l'hai fatta, ragazza! Sì! Brava! Brava, brava! Un pezzo di torta. Oh! Altri pezzi di torta. La metto la carta da forno? Non la metto la carta da forno. Non pensavo sarei morto cucinando una torta. Magnifico! E invece? Sì! Invece? No!